E quindi la domanda è, ma la pena carceraria assume davvero per le violenze di genere una funzione deterrente e preventiva? Assolutamente no, posso finire così? Assolutamente no, nel senso che non assolve ad alcune di queste funzioni, ovviamente assolve alle funzioni a cui la pena è generalmente chiamata, diciamo, oltre quelle di distinzione sociale di classe a cui faceva riferimento prima Valeria, assolve a una funzione simbolica di rappresentazione della reazione sociale al male denunciato, assolve a questa funzione. Ma nulla che abbia a che fare con quella pretesa, diciamo, di deterrenza o addirittura di rieducazione, perché ora, peraltro, diciamo, questo tema ha portato negli ultimi anni ormai a una presenza molto, molto importante di maltrattanti e uomini che hanno agito violenza nei confronti di donne dentro le nostre carceri, con l'idea che, e dove vengono sperimentate ogni genere di attività, con l'idea che possa esserci una, tra virgolette, rieducazione. Rieducazione a cui, peraltro, lo stesso, la stessa istituzione non crede fin in fondo, semplicemente la pretende, perché fa parte, diciamo, sì, della cerimonia istituzionale, senza poi dargli un esito. Ma risponde a questa dimensione simbolica e risponde anche, anche questo, e su questo dobbiamo interrogarci, evidentemente, anche a una funzione di, giustamente come dicevi tu all'inizio, di legittimazione dell'istituzione. Visto che parliamo di abolizionismo, io vi racconto una delle esperienze per me, diciamo, più emozionanti di pratica abolizionista è stata quando nel 2006 è stato approvato l'ultimo provvedimento di clemenza generalizzata che c'è stato in questo paese, cioè un indutto di tre anni. E, appunto, fu esperienza per me che in quel momento, diciamo, sì, lavoravo esattamente dentro l'istituzione, perché ero il caposegretaria di Luigi Manconi, allora sottosegretario alla giustizia, che fece quel provvedimento. E ricordo l'emozione di un pomeriggio nel carcere romano di Le Bibbia, quando i detenuti che mettevano in scena uno spettacolo per festeggiare, diciamo, l'evento, per festeggiare l'evento, e man mano arrivava un poliziotto e urlava un cognome e poi liberante, che è il modo con cui i detenuti vengono chiamati per, appunto, poter uscire dal carcere. Man mano che arrivavano dalla procura gli atti, i conteggi del fine pena di quelli che erano sotto i tre anni di pena, venivano chiamati così e uscivano e magari lasciavano a metà questo spettacolo, in cui i protagonisti si sono cambiati in continuazione, perché ogni tanto ce n'era uno che veniva chiamato fuori. Ed per me è stata un'emozione enorme, assistere a questa cosa è stata un'emozione enorme. Però, per esempio, appunto, nella canea che ci fu in quelle settimane, in quei mesi, prima e dopo l'approvazione dell'indulto, il mostro aveva un nome e cognome, diciamo, il mostro era il mostro, diciamo, e cioè l'autore della strage del Circeo, che era in carcere, che è tuttora in carcere, in un carcere della regione di cui io sono garante, e quindi ne sono garante, diciamo, è che ci veniva ogni volta sbattuto contro perché e allora che cosa facciamo di Angelo Izzo? Ecco, questo è, diciamo così, quindi diventa, a questo punto, la risposta punitiva tradizionale, reclusoria, istituzionale della persona violenta, diventa lo strumento della rilegittimazione dell'istituzione. E questo si riproduce all'infinito. Io ho fatto il garante anche in Umbria, dove c'era un'altra storia, che era quella del famoso mostro di Foligno, che è stato, diciamo, spedito in Sardegna e dimenticato in Sardegna perché nessuna comunità Umbria voleva averlo, neanche quando hanno chiuso gli OPG. Questo è, diciamo. Allora, queste sono le cose che servono. La mostrificazione serve a rilegittimare, diciamo sì, l'istituzione, ma non serve, non serve mai a rispondere a quel bisogno di giustizia di cui prima parlava Giussi. Questo è il punto, diciamo. E quindi io credo, diciamo sì, che bisogna lavorare sul bisogno di giustizia delle persone, e non su, diciamo così, la rappresentazione. Appunto, allora, questo è, diciamo così, il problema con cui appunto bisogna fare i conti quando si tratta di queste cose. Cioè che l'istituzione viene rilegittimata, diciamo, attraverso l'esibizione del caso limite e quindi anche del caso limite della violenza, della violenza contro le donne, dentro un'idea ovviamente questa perfettamente, diciamo, patriarcale per cui sono altri che decidono, altri maschi nella comunità, diciamo, di coloro che in qualche modo fanno opinione, che decidono appunto l'insufficienza di una risposta, la necessità di una risposta punitiva. Grazie.